ciao a tutti e bentornati e benvenuti su fanatico reloaded questa volta un video musicale un po particolare mi sono chiesto quante esecuzioni differenti ci sono di un pezzettino esatto delle quattro stagioni di vivaldi un pezzettino che strausato è usato tantissimo in documentari film e pubblicità credo ma è di cosa si tratta si tratta appunto dell'estate ho voluto fare una specie di mix un mix praticamente di miglior di una delle migliori esecuzioni che si trovano su youtube e concluderemo il video proprio con le due versioni della mia del mio progetto appunto di a like vivanti vi lascio in compagnia di questo breve video questo mix questo gruppo lì dell'esecuzione del diciamo del ritornello centrale che così possiamo chiamarlo di appunto antonio vivaldi le quattro stagioni dell'estate ciao e alla prossima grazie della visione ciao 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 ciao